Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse sono Giancarlo Crescente, consulente immobiliare Remax. Oggi siamo a Barletta, in pieno centro, per andare a visitare a pochi passi da qui, e precisamente in via Brigata Barletta 55, un appartamento di grandi dimensioni. L'immobile è attualmente adibito ad usuficio, ma può essere compravenduto anche come abitazione e può essere frazionabile in due o addirittura tre unità immobiliari. Seguite! Buongiorno a tutti! E siamo al termine della nostra visita. Come abbiamo potuto notare, all'interno del video sono stati inseriti dei render su questo immobile come abitazione, in quanto precedentemente era già stato un appartamento ad uso abitativo. Inoltre, grazie alla sua grande dimensione, questo immobile è perfettamente frazionabile in due o più unità immobiliari addirittura, ma chiamatemi per tutte le informazioni.